coaching one to one in sede a domicilio o via skype il coaching one to one è consigliato per il raggiungimento di obiettivi specifici si sono già avvalsi di questa modalità politici atleti personaggi dello spettacolo manager professionisti e persone fortemente motivate a migliorare l'impatto della propria comunicazione su se stessi e sugli altri tramite il coaching one to one è anche possibile ottenere tutte le certificazioni e le qualifiche del ciseg specializzarti in pnl ed espressività generativa e diventare coach professionista sarai tu a scegliere i tempi e definire gli appuntamenti secondo le tue esigenze ed impegni ci saranno esercizi da fare nel periodo tra una sessione e l'altra e materiale che ti permetterà di lavorare autonomamente il coaching one to one avviene direttamente nella sede di roma del ciseg ma è possibile anche a domicilio o via skype da tutto il mondo se hai una buona connessione internet il percorso ti porterà tra l'altro a fare chiarezza sugli obiettivi di vita e professionali ampliare le prospettive acquisire strumenti straordinari di crescita personale usare la voce per generare benessere empatia autorevolezza canalizzare il tuo potenziale per sfruttarlo al meglio in ogni sfida conoscere le strategie per accedere alle tue risorse più profonde rendere straordinario l'impatto della tua comunicazione conoscere i segreti della persuasione e del linguaggio ipnotico per ottenere gratuitamente un progetto personalizzato di coaching one to one ed un preventivo contatta adesso teia mania chiocciola yahoo punto it